Oggi è un'altra buona occasione. Sì, sulla carta sì, però fisicamente non molto perché sto combattendo da due giorni con un virus intestinale, non solo io, anche altri miei compagni, e bisogna strigire i denti e cercare che passi il più presto possibile. Oggi è una bella etapa perché passo anche sotto casa dove mi alleno e ho più stimolo, più voglia. E come ripeto già speriamo che con il passare dei chilometri mi sento meglio di ieri e dell'altro giorno. C'è anche magari l'opzione di giocare nel finale e te e Simeone, due chance? Sì, sicuramente. Non sono solo io qua nella mia squadra, c'è anche Simeone che può far bene, può dire la sua e vedremo come saremo messi nel finale. Il bilancio tra il tuo giro fino ad ora? Do un sei e mezzo perché un po' la sfortuna, un po' io tatticamente che a esitare a partire e tutto quanto, però diciamo non sto facendo un brutto giro d'Italia, ci vorrebbe la ciliegina sulla torta e vediamo un po'. Grazie. Grazie.